Che cosa sono gli zero coupon? Quali caratteristiche presentano e per chi sono adatti? Lo vediamo fra una manciata di secondi. Ben trovati, lo chiamavano Saver, io sono Giacomo e sono qua ogni settimana per darvi delle pillole di formazione. Prima di parlarvi degli zero coupon vi ricordo che in descrizione vi metto un link al corso gratuito Welcome, che è un corso pensato per chi di voi vuole imparare a investire in maniera autonoma e indipendente. Ovviamente è gratuito perché è un corso introduttivo. Lo zero coupon, come dice il nome, è un titolo privo di cedole, quindi a differenza dei tradizionali BTP che pagano degli interessi semestrali, lo zero coupon capitalizza gli interessi. Quindi il grande vantaggio è quello di reinvestire in modo automatico gli interessi fino alla scadenza, consentendo una crescita più rapida del capitale investito. Lo svantaggio è che a parità di durata lo zero coupon presenta una volatilità di prezzo più alta, proprio perché non avendo dei pagamenti intermedi non offre la possibilità di reinvestire le cedole a un tasso più alto compensando gli effetti appunto del fatto che voi investite in un titolo che blocca il rendimento per un periodo abbastanza lungo. Sono indicati per investitori che vogliono disporre di una certa somma una scadenza precisa. Se io compro uno zero coupon che scade nel 2030 e so che ho bisogno di una somma nel 2030, sono sicuro di poterlo incassare. Ovviamente tutto questo succede a condizione che l'emittente dello zero coupon ovviamente non va in default. Per cui fate attenzione, scegliete degli zero coupon pensando già di portarli fino a scadenza e cercate soprattutto titoli di emittenti sicuri evitando magari titoli denominati in valuta estera perché la valuta estera comporta poi un rischio di cambio che potrebbe facilmente annullare il maggior guadagno in termini di interessi. Grazie per le vostre condivisioni, mettete un bel like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale per ricevere tutti i prossimi contenuti. Ci vediamo martedì!